Sono Giovanni Recchia, operatore sindacale della Filca CISL a tempo pieno dal 2006 e esercito la mia attività sindacale nel territorio della provincia di Latina, oggi interprovinciale con Frosinone e Filca CISL Lazio Sud è il nome della denominazione. I nostri valori della CISL sono importanti e li conosciamo proprio soprattutto in questi periodi di crisi, stando vicino alle persone che hanno parecchie difficoltà ad andare avanti. Un'assemblea organizzativa, come è stata indetta oggi in questi giorni a livello nazionale, è importantissima. È importantissima perché ci deve aiutare a mettere al centro di tutto ciò sempre il lavoratore, la persona. In questi tempi che effettivamente anche gli iscritti hanno difficoltà, è giusto che un'organizzazione rifletta sull'importanza dei propri associati, dando giustamente migliori convenzioni e maggiori tutele, a livello sia lavorativo che sindacale naturalmente.